Un saluto a tutti dalla voce di Bruno Pizzul. La prima partita per la qualificazione agli europei, Italia e Inghilterra, è finita 1 a 2 per l'Inghilterra, Reis e Kane per l'Inghilterra su rigore e Red Wai al 56esimo. I dati della partita sono questi. 10 tiri totali per l'Italia contro 7 dell'Inghilterra, un tiro in porta contro 4 dell'Inghilterra, 58% di possesso palla contro 42, 527 passaggi contro 393, 83% di precisione nei passaggi contro 79%, 13 falli contro 6, 3 ammunizioni a 3, espulsioni 0 a 1 per l'Inghilterra, fuori gioco 0, calci d'angolo 7 a 3 per l'Italia. Un saluto a tutti gli amanti del calcio, è tutto molto bello!